Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo episodio della Carrera con Napoli. Ragazzi, vi ringrazio di cuore davvero per i mille iscritti che abbiamo raggiunto. È davvero un traguardo in così pochissimo tempo che io non pensavo davvero di poter raggiungere. In questo momento, quando sto registrando, ci siamo quasi a mille, ma spero davvero di non fare la figura di merda in questo momento di averli superati, questi mille iscritti, finalmente. E la cosa strana è che io da pochissimo appena ho fatto, neanche in una settimana, ho fatto lo speciale 500 iscritti e mi ritrovo ora a fare quello dei mille. Davvero è qualcosa di pazzesco e vi ringrazio davvero di cuore perché è soltanto merito vostro. Venendo a noi, diciamo, sulla Carrera con Napoli, guardiamo un attimino. Allora, siamo in prima posizione a più 6 dalla Roma e questa è una cosa fantastica e sensazionale, ma siamo anche a più 12 dalla Juventus e questo è davvero davvero favoloso perché la Juventus è quella che ci ha buttato fuori, non ci ha fatto vincere il campionato l'anno scorso e vendicarci così dandole 12 punti è davvero davvero tanto, è molto positiva come cosa. Ragazzi, intanto che vado a fare qualcosa con lo staff, che lo mandiamo, ok, così va bene, vi dico che sto pensando un pochino a quello che ho scritto nello speciale di 500 iscritti e quello che ho scritto, quello che ho detto, e cioè cosa fare dopo la Carrera con Napoli. Ragazzi, ci sto pensando, abbiamo ancora qualche episodio prima che ci accada. Siamo ora ad aprile, vediamo un pochino quanti episodi abbiamo prima della fine. Allora, abbiamo questo episodio qua che finisce col Bologna, poi abbiamo 1, 2, 3, un altro episodio, due episodi, poi ci saranno partite di Champions, quindi tre episodi, quattro, eh ragazzi, probabilmente con questo altri 4-5 episodi, quindi non tanti. Ora ci pensiamo e vediamo un pochino come fare. Io ho già qualche idea in questo momento. Vediamo, vediamo ragazzi. Anche perché bisogna stare attenti, cioè io mi sto facendo conoscere adesso proprio per la Carrera con Napoli e andando a cambiare adesso la Carrera, facendola con un'altra squadra, ho paura che non abbia lo stesso seguito. È una cosa normale, maggiormente per me che sono piccolo, anche se ho raggiunto mille iscritti che sono per me tantissimi, quindi andare a cambiare squadra potrebbe nuocere. Ora vediamo, vediamo un pochino. Io lo vorrei tanto cambiare squadra. Adesso vediamo ragazzi. Potrebbe anche nuocere il fatto di restare sempre nella stessa squadra, eh. Questo è sicuro. Però sono scelte che io devo fare e devo buttarmici. Davvero capofitto. Con un po' di esperienza magari saprei già cosa fare. In questo momento non ho esperienza, quindi non so quale sarà la scelta giusta, ma quello che il destino ci riserverà ragazzi lo scopriamo insieme. Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro ragazzi ne approfitto adesso, intanto che state guardando questo episodio, intanto che vanno a fare la formazione col Chievo. Vi dico che io spero davvero di cuore che voi iniziate a guardare come state guardando questa carriera anche gli altri video che porto. E questo è davvero importante per me perché io non voglio essere un canale solo di FIFA, ragazzi. Non mi interessa essere un canale solo di FIFA. Io vi porto, ve l'ho già detto, sempre i giochi che mi interessano a me, che mi divertono a me, che spero di far divertire voi. Quindi ragazzi, davvero, non voglio essere solo un canale di FIFA. Quindi chi pensa che io sono iscritto tanto per guardare i video di FIFA, ok, però davvero, provate a guardare anche gli altri video che porto. E magari se non vi piacciono, fatemi sapere in un commento perché non vi piacciono, magari cerco di modificarmi io. Perché ragazzi, è davvero importante. E prossimamente, ve l'ho già detto, arriveranno dei video di Dark Souls che per me è importantissimo. come gioco da portare, davvero. Però adesso, bando alle ciance, perché hai dato un'introduzione davvero troppo lunga. E andiamo alla sfida contro il Chievo. Sansone. Sansone, bravissimo, entra in aria Sansone. Dentro il pallone, si gira benissimo Mitrovic. Pallone che va sopra la traversa. Ottima questa azione. Le vediamo. Pallone messo in mezzo. Mitrovic si gira anche molto bene, tira una bomba incredibile però. Pallone che va sopra la traversa. Va bene, va bene. Occhio, sbaffo. Sbaffo il tiro! Reina interviene benissimo, la butta fuori. Ottimo intervento di Reina. Anche se magari forse per fare turn over avremmo dovuto mettere Dragoschi così che potesse giocare un pochino di partite anche lui. Sarà per la prossima partita, dai. Bravo, Sansone che recupera palla. Sansone. Uh, viene messo giù. Da dietro, tra l'altro. Da dietro, da non so chi. Il difensore del Chievo sembra... Ammonito e basta, dai, da dietro. Bruno Alves. Bruno Alves. Brutto fallo, davvero. Allora, vediamo un pochino chi potrebbe battere. Non abbiamo Ronaldo. Dai, però... Ammonito. Va bene, ok. Stiamo facendo un video qui, eh. Abbiamo bisogno di velocizzare. Grazie. Allora. Mitrovic. Beh, Florenzi le tira bene, eh. Anche Ruben Neves non le tira male. Proviamo... Oh, Ajan, è vero! Ajan, Ajan. Eccolo. Ajan. Ragazzi, vediamo un po' Ajan cosa combina. Tiro di Ajan! L'avevo detto che tirava le punizioni bene. Chi se lo ricorda, ragazzi, lasci un mi piace. Nei primi episodi l'avevo detto. Ajan, guardate che punizione. Un difensore. Un difensore. È fortissimo il mio idolo, Ajan. L'avevo detto che l'anno scorso mi aveva portato talmente tante di quelle vittorie su calcio di punizione. Che gran punizione, Ajan. 1-0, ragazzi. Occhio qui, Paloschi. Pallone per sbaffo. Reina ancora sbaffo, però. Che è fortissimo. Non so chi cavolo sia sto sbaffo. Sarà immettato dal gioco. Ma è veramente forte, ragazzi. Dobbiamo andarlo anche a visionare. Perché è forte, forte, forte. Riguardiamo l'azione. Gran palla. Quindi Paloschi per sbaffo. Tira. Spara Reina, ma non può nulla. Nella ribattuta. Subito raggiunge il pareggio. Alessandro sbaffo per il Chievo. Barkley. Chiedere 1-2 con Mitrovic. Mitrovic va da solo, però. Mitrovic. Subisce ancora fallo. Ed è un calcio di punizione, ragazzi. Se fa un altro gol Ajan, però impazzisco. Se fa un altro gol Ajan, impazzisco. Però non posso metterlo direttamente qui. Chi deve tirare le punizioni. Sì, quello posso fare. Allora. Ajan qui. E Ajan qui. E Ajan qui. No, e tira ancora Floretti. Ma neancheazzo. Allora. Eccolo qui. Ajan. Vediamo un po' cosa fa adesso. Shhh. Ragazzi, silenzio. Arbitro. Eh, bravo arbitro. Fai tirare arbitro? Tiro Ajan. Mamma mia. L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro, ragazzi. Come le batte bene le punizioni. Uh. Di quanto. Qua dovevo tirare un po' più alto, forse. Peccato. Abbiamo guadagnato delle punizioni lì a tre quarti, perché Ajan le tira davvero forte. Le tira davvero bene. Occhio ancora a Chievo. Queste verticalizzazioni veramente pericolose. Per fortuna Reina è veramente un giocatore di esperienza, quindi riesce ad anticiparli prima. Ma dobbiamo stare attenti in indifesa, perché danno queste verticalizzazioni veramente belle e pericolose, appunto. Il giocatore del Chievo. I nostri difensori impazziscono all'improvviso. Sansone per Andrade che stoppa e poi va giù. E l'arbitro fischia il calcio di punizione. Al quarantacinquesimo e oltre. Un terzo calcio di punizione. Stavolta però batterà Ajan. E dobbiamo far gol stavolta, ragazzi. Il nostro tiratore di punizioni alla Pirlo. Vediamo un po' cosa fa adesso. Silenzio. Ajan. No. Troppo alta. Devo tirare più piano, più piano. Però ci siamo, ci siamo, dai. Occhio il Chievo. Paloschi. Paloschi si gira. Paloschi. Bravo Zuma. Ripartiamo uno in contropiede con Berkley. Per noi per Mitrovic. Deve aspettare i suoi compagni. Mitrovic riesce a dare pallone a Berkley. Berkley sale. Chiede l'1-2 con Andrade. Però ha messo giù Berkley. Marabito non fischia. Andrade se ne dava via in velocità. Cosa cazzo succede? Dio santo! Figa! Cristo Dio! Che mai se ne va via? Bravo. Bella palla. Qui per sbaffa. Ancora lui. Non rompe le balle. Palone per Paloschi. Zuma. Interviene. Ci mette una pezza. Reina poi di mano. Lancia lunghissimo per Mitrovic. Che deve aspettare. Si gira bene. Viene fermato fallosamente da Bruno Alves. Ci sono due cambi ragazzi. A 73 esimo. Ormai possiamo farlo. Escono. Andrade Mitrovic per Ronaldo e Insigne. Dobbiamo tentare tutto per tutto con i nostri campioni. Ronaldo per Insigne. Insigne. Bellissima giocata. Insigne. 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 Lorenzo del Capitano. Il Capitano. Appena entrato. Lorenzigno. 2 a 1. Questi sono i nostri campioni ragazzi. Appena entrati. Ci pensano loro. Dicono. Ci penso io. E la buttano dentro. Ragazzi. Che giocatori. Davvero. Guardate Insigne. Numeri stratosferici. Poi guardate qua. E non può sbagliare qui. Lorenzo Insigne. 2 a 1. Fantastico. Meggiorini. A larga destra. E da solo Meggiorini. Deve aspettare i suoi compagni. La crossa in mezzo. Bruno Alves. Anticipa l'ultimo. Il nostro giocatore. Però la butta fuori. Mamma mia. Che pericolo. Dio santo. La seconda volta che fanno queste cagate. Dai. Ma porca puttana. Non è possibile. Ma porca miseria. Cioè. Io ho schiacciato il tastino questo qui. Quello per chiamare il giocatore. Ok. Quello che. Senza che io schiacci la. Non gliela deve passare. Loro la passano. A chi cazzo gli pare. La seconda volta che me l'ha fatto. Non l'aveva mai fatto. Cioè. Perché. Perché. Cioè. Io posso mai pareggiare. Per se stronzate. Per ragazzi. Assurdo. Tutto offensivo. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a risolvere la partita con i nostri campioni. Insigne. Beh. Ma non sono forte nel dribbling io. Ragazzi. Mi dispiace. Ma. Ha fatto. Ha fatto il pc. Ha fatto da solo. Il. Il. La cpu. Perché è assurdo. Cioè. Io ho schiacciato questo qui. Che. È il tastino per chiamare il. Per usare soltanto il giocatore. Non so perché ha schiacciato. Direttamente. Per passargli la palla. Vabbè. È andata così ragazzi. Mi dispiace. È bello che io sono già incazzato. Adesso. Perché. Nel. Video di Messi contro Ronaldo. Ho ricevuto un avvertimento da YouTube. Perché ho utilizzato una canzone. Ragazzi. Quella che utilizzo sempre in tutti i finali di video. Solo che quello lì è. Ovviamente il video. Con più visualizzazioni che ho. È normale che YouTube mi venga a rompere i coglioni. Proprio in quel video. Ovvio. E cosa ha fatto? Mi ha tolto la possibilità di. Avere monetizzazione su quel video. Cioè. È il video dove ho più visualizzazioni. Mi tolgono la monetizzazione. Giusto. Grazie. Gentilissimi. Davvero. E sono già incazzato per quello. Quindi ho dovuto tirar via la canzone alla fine. E l'audio finale fa cagarissimo. Se adesso andate a guardare. Quel video. L'audio finale è orribile. E credo che lo faranno anche per i prossimi. Quindi adesso mi tocca cercare. Una nuova canzone finale. Che non mi rompano le palle. Per quella canzone. Mi tocca. Ogni volta che mi arrivano quei. Quei blocchi lì. Devo cancellare ogni audio finale. E quindi rendere il video penoso. Pensate adesso se non sono incazzato. Anche per questa cosa qui. Pensate. Ma va bene. Adesso tranquillizziamoci. Perché abbiamo una partita importante. E. Cioè ragazzi. Non avete idea. Cioè. Uno si è incazzato. Uno si è incazzato. Mi avevano cancellato. Da solo si era cancellato. Carrera allenatore Napoli. L'ho dovuta rifare adesso. Mi si era cancellato da solo. Cioè. Se io non avessi avuto i progressi allenatore. Che è un altro modo per avere un backup. Madonna. Avremmo perso negli ultimi tre puntate. Negli ultimi tre episodi. La carriera col Napoli. Madonna mia. Che brutto episodio che sta venendo giù. Madò. Allora. Conferenza stampa. Andiamo a motivare i nostri giocatori. Perché dobbiamo svegliarci dopo l'ultima batosta col Chievo. Andiamo a fare gli allenamenti. Alan ci rifiuta il contratto. Vabbè. Alan lo sapevamo. Perché ci ha chiesto veramente il mondo. E noi non ce l'abbiamo in questo momento. Vabbè ragazzi. Allora. Tranquillizziamoci. Abbiamo una partita importante. Quella del ritorno contro lo United. E sicuramente dobbiamo stare attenti. Per questa sfida. Allora. Direi che va bene così con le maglie. I giocatori. Anche se sono un pochino stanchi. Direi che vanno benissimo così come sono. Magari in panchina portiamoci qualcuno di un pochino più fresco. Tipo Biro Biro. E tipo. Posto di Barclay. No. Penso che vada bene loro. Vanno benissimo così. Come sono. Va bene. Ci siamo ragazzi. Abbiamo il ritorno di Champions contro lo United. Forza Napoli. Eccoci qui ragazzi. Champions League. Piove allo stadio San Paolo di Napoli per questa sfida di ritorno dei quarti di finale tra Napoli e Manchester United. Come sapete l'andata abbiamo vinto 1-0. Questo è il ritorno quindi ci basterà non subir gol per passare il turno. Anche Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester City hanno vinto. Quindi sicuramente anche se dovessimo passare il turno non affronteremo squadre di livello basso. Questo è poco ma sicuro. L'urlo del San Paolo lo conoscete tutti quanti per l'inno della Champions ragazzi. Direi di procedere subito alla partita. Forza. Forza Napoli ragazzi. Dai. Occupera palla di nuovo la mela. Bravissimo. Dai la mela dai. C'è nessuno che si fa vedere. C'è Ibra però. Ibra. Si gira benissimo. Ibra al sinistro. Zlatan. Di rabbia. Di rabbia. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Così. Questa è una cosa che Ibra non farebbe mai però. C'è con la mela dietro poi. Gran gol davvero. Riguardiamo la mela. Passa il pallone Ibra che si gira da dio. E poi la butta dentro di rabbia. Davvero. Mi sono sfogato con questo gol. 1-0 per noi. Segna Zlatan. Schule. Bravissimo Schule. Sta salendo da solo. Continua Schule. Viene messo giù. Da dietro tra l'altro. Questo è un fallo che se faremmo noi. Facessimo noi. Madò. Se facessimo noi. Verremmo espulsi all'istante. Invece lui viene ammonito. Giusto. Va bene arbitro. Certo. Vescillo. Cambia gioco dall'altra parte. A cercare Dani Alves che è salito. La stoppa Dani Alves. Non la fa uscire. Dani Alves. Bravissimo qui. Alves. Il destro di Alves. Ci ha provato Dani Alves. Ci stava però. Dai. Ibra. Si gira da Dio. Ibra. Si gira davvero bene. Parone per Insigne. Insigne che palla per la mela. La mela. Il tiro. Che gol incredibile. No. Annullato. No. Annullato. Incredibile. No. Era bellissima la palla di Insigne. Peccato. Proprio quel movimento figo da Dio. L'ha mandato in fuorigioco. Peccato però. Davvero. Parone per Insigne. Che la stoppa. Insigne. Viene bloccato da Darmian. Bravo. L'ex Torino. Però pallone ancora nostro ragazzi. Siamo noi padroni di questa partita. Grazie al nostro pubblico. Di oltre mille persone. Il nostro pubblico che ci sta vicino. Noi abbiamo il controllo di questa partita. Speriamo di continuare ad avercelo. Perché si sa mai in FIFA. L'abbiamo visto nell'ultima partita. Manchester United per adesso praticamente assente. Vediamo se fanno cagate. Va bene. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per noi. Vuol dire 2-0. E quindi per lo United. Lo United è costretto assolutamente a fare almeno due gol per passare il turno. Per cui. Continuiamo così. Darmian. Darmian. Velocissimo. Alex Torino. Crossa il pallone in mezzo. Dani Alves. Ottimo qui. Il disimpegno difensivo. Ripartiamo nei contropedi con Lorenzo Insigne. Insigne. Non è di fretta. Pallone però per Ibrahimovic adesso. Che deve aspettare i suoi compagni. Ibra si gira bene. Cede ancora il pallone per Alan. Viene anticipato da Jones. Ma ancora pallone nostro. Con la mela. Che allarga a sinistra a cercare che sanno Ronaldo. CR7. La stoppa. Numero di CR7. Però Blind aveva capito tutto. Però recupera la palla ancora CR7. Bravissimo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Il destro di Ronaldo. Parato da De Gea all'ultimo. E Alan poi non ci arriva. Eh bella questa azione in contropiede. Dai ragazzi. Schweinsteiger. Schweinsteiger per Schneiderlin. Ancora Schweinsteiger. Reina. Reina. Pepe Reina. Dice di no. A Schweinsteiger. Calcio d'angolo però. Non muovono quelli degli United. Cross in mezzo ancora. Reina. Blocca tutto. E dice fermi qui. Che non si passa. Ragazzi siamo al 71esimo. Abbiamo bisogno di più equilibri. Per cui ho deciso di optare per un 4-5-1. Togliendo Ibra. La mela. Insigne. E inserire. Tieleman. Mitrovic. E Viro Viro. 4-5-1. Così. Belli bloccati. Vediamo un pochino se riusciamo a resistere. Per questi ultimi 20 minuti di gioco. Ora United. Schweinsteiger. Per Smalling. Mata eh. Ora è un tour de force ragazzi. È un tour de force per forza. Show. Show entra in aria. Ragazzi. Occhio. Gli fanno fare tutto. Poi il tiro di Show. Fuori. Poteva crossare qua. Show. Pariamo la sua. Che meglio. Ballone su verso Mitrovic. Speriamo la prenda lui. Eh. L'ha preso lui. Va bene. Uh. Dai che sbagliano. Dai Tieleman. Fallo per noi però. Arbitro. Per noi eh. Ah. No. È per loro. Vabbè. Pallone per Ronaldo. Che palla. Ronny. Ronny ancora in po' per Biro Biro. Che cosa fa Biro Biro? Si butta per terra da solo. Bravo Biro Biro però. Si gira bene. Crossa di nuovo questo pallone. Jones. Anticipa l'ultimo. Cristiano Ronaldo. Però ormai mancano due minuti di recupero. E siamo passati ragazzi. Quindi anziché perdere un po' di tempo mettiamola direttamente in mezzo che facciamo prima. Pallone di Ronaldo in mezzo. Di testa non ci arriva Mitrovic perché Schneiderling l'anticipa. Poi il pallone è buttato su. Dai arbitro. Fischia alla fine di questa partita che dobbiamo andare in semifinale. E fischia. L'arbitro. Semifinale guadagnata. Perché abbiamo battuto sia l'andata che al ritorno. 1-0. Il Manchester United. Fantastico ragazzi. Questo testimonia quanto siamo davvero migliorati come squadra. Il Chelsea credo che non sia riuscito a passare lo stesso col Bayern. Anche se ha vinto 2-1. Passano Bayern, PSG e City. Vediamo un po' chi beccheremo. Vediamo un pochino nel calendario se c'è già. Non c'è ancora. Va bene. Adesso ci guarderemo. Allora. Aggiornamento della Francia non ci interessa. Partita spostata. Roma-Napoli. Premio torneo. 6 milioni di euro dalla Champions. Ora possiamo fare il contratto a il nostro carissimo rompiballe. Che è Allan. Allora. Contratti. Andiamo da Allan. Dove sei Allan? O là? Noi. Eccolo qua. Ah non vuoi. Vabbè. Quando avrai voglia di farlo ci farai un fischio Allan. Allora andiamo a vedere. Ok. Abbiamo beccato il Bayern Monaco. Lo sapevo che non erano riusciti quelli del Chelsea a passare. Per cui adesso facciamo la partita contro il Bologna. E ragazzi il prossimo episodio sarà una bomba devastante. Una bomba devastante perché probabilmente vincerò tre partite incredibili. E cioè semifinale di ritorno di Team Cup contro il Milan. La partita decisiva praticamente per lo scudetto contro la Roma. Perché è una vala spacca in quel caso. E l'andata di semifinale di Champions. Che episodio bomba sarà il prossimo. Siamo a quattro punti dalla Roma. Ora dobbiamo affrontare il Bologna. Ragazzi. Andiamo un attimo a salvare. Dobbiamo affrontare il Bologna nella sfida di campionato. Però dobbiamo mettere appunto un pochino di riserve. O forse no. Giochiamola con loro. Giochiamola con i titolari. Perché metterci le riserve? Tanto le riserve ce le mettiamo contro il Milan. Andiamo a giocare con i titolari. Va. Contro il Bologna andiamo un po' più sicuri. Ok. Andiamo sulla sicurezza. Che è meglio in queste sfide maggiormente. Che sono così importanti. In cui dobbiamo vincere assolutamente. Innanzitutto Schule viene ammonito. Però c'è il gol di Dani Alves. Segna sempre il terzino destro. È pazzesco. Se c'era Florenzi segnava Florenzi. Tanto la Juve pareggia col Milan. 1-1. Ronaldo 2-0. Dovrebbero aver mai chiuso i battenti. 2-1 invece. Meglio. 3-1. Ok. Fantastico. Aveva segnato anche Mancosu. 3-1 di Ronaldo. Dovrebbe essere finita. Infatti. Finisce qui. 3-1 ragazzi. Abbiamo vinto anche questa sfida contro il Bologna. Abbiamo la semifinale di Coppa Italia appunto. Che faremo nel prossimo episodio. Andiamo a vedere un pochino in Serie A come siamo messi. Siamo a più 7. Però abbiamo una partita in più dalla Roma. Perfetto. Andiamo a salvare l'episodio ragazzi. E ovviamente ora sotto ci sarà un'altra canzone. Speriamo che non ci rompano le palle anche per questa canzone. Ragazzi. Grazie mille per avervi visto anche questo episodio. Ormai siamo vicinissimi al Rush finale. Ragazzi miei. Per cui se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi. Ci rivediamo al prossimo episodio. Grazie per avermi guardato. Per aver guardato questo video. Un saluto. Ciao da Papir. Ciao da Papir. Ciao da Papir.